ciao a tutti da jumpy e bentornati nel mio canale ciao oggi siamo in compagnia di paolo un pescatore locale bravo nel carfishing che mi insegnerà tanti trucchetti vediamo com'è andata ciao bella paolo com'è? è tranquillo ho voluto provare a impastare anche un po' di fioccato ho aggiunto anche un po' di mais e qualche bigattino vediamo se riusciamo a stimolare il nostro carpone grazie